Benvenuti da Roberto Massai e bentrovati su Giardino Futuro, il podcast del giardinaggio sostenibile. Questa è la seconda parte della chiacchierata che abbiamo fatto con Andrea Iperico, il giardiniere bioetico. Anche questo episodio è molto ricco di contenuti utili. Il punto di vista è quello di chi in giardino ci lavora ogni giorno. Alla fine della prima parte eravamo rimasti sulla domanda riguardo il mondo del vivaismo che ti ripropongo e ti auguro un buon ascolto. Pensi sia solo un difetto dei giardinieri o si può dire qualcosa anche a proposito dei vivaisti? Io come questa concezione che molti giardinieri abbiano appreso un po' per consigli, un po' per visto fare tante false credenze o cattive abitudini anche dai vivaisti. I vivaisti poi a loro volta dal mondo agricolo. Si è stato un po' un circolo vizioso che si è tramandato in un paio di generazioni. Quello che ho visto nelle mie zone è un discorso di cultura e di conoscenza o anche del fatto che poi in molti casi ci si adattano. Noi che siamo gli acquirenti, che andiamo a comprare in vivaio, molte volte compriamo per necessità tutto quello che c'è, ma è una questione di essere esigenti. Noi molte volte non siamo esigenti nella qualità delle piante, quindi in realtà molte volte la filiera non è altro che lo specchio di quello che siamo noi. Abbiamo l'esigenza di spendere poco, abbiamo l'esigenza di non ricercare la qualità del prodotto perché per tanti motivi e quindi diciamo che parte del ricordo di responsabilità in realtà è la nostra. Noi se fossimo più esigenti se andassimo a comprare solo da chi produce piante fatte bene, cioè gestite bene, magari rizzollate, magari con la chioma tutta cima o altro, gli altri teoricamente dovrebbero adattarsi alla condizione del mercato. In realtà giochiamo sempre a ribasso, cioè siamo noi gli artefici di quello che c'è in giro, cioè perché noi poi accettiamo di comprare quello che è anche scadente. A volte non siamo neanche capaci di riconoscerlo. Infatti quello è il problema. Noi siamo in realtà, non siamo capaci di gestire un albero, perché tanto scegliamo più delle volte l'albero sbagliato, nel posto sbagliato, solo con la convinzione che potando possiamo governarli, no? Ma in realtà il segreto è quello di progettare bene a monte, no? Cioè io posso anche progettare una forma di allevamento, cioè scelgo una pianta ma posso già scegliere se gestirla con una forma di allevamento. Non posso gestirla dopo quando è diventata troppo grande, perché è tardi. Quindi non abbiamo noi la concezione di... Un classico esempio è un albero a testa di salici, cioè allevato proprio con l'idea di farlo in quella maniera, lo apri a candelabro, lo mantieni in quella maniera e non che vai a capitozzare i rami grossi dopo vent'anni. Qui abbiamo perso tutta quella cultura giardinieristica, quella cultura giardinieristica che ha prodotto il splendore delle ville storiche, che abbiamo un po' spazio per l'Italia o altro, che avevano, ma anche nel mondo, che avevano delle forme di allevamento ma che erano ragionate, pensate, studiate fin dalla giovane età della pianta. Noi abbiamo perso questa cultura. Ma possibile che ci fosse più cultura 500 anni fa? No, c'era. Ma almeno in Italia? No, no, c'era. No, no, c'era. Non siamo rimasti fermi lì? C'era più cultura perché si sapeva quali erano le tecniche giardinieristiche, c'erano delle esigenze, c'erano... ma probabilmente forse anche perché c'erano delle esigenze di costruire così, per cui il mercato richiedeva quelle cose. Abbiamo banalizzato il giardino, cioè l'abbiamo da un lato giustamente reso la portata di tutti, perché se guardiamo la storia del giardino in realtà parliamo sempre di grandi giardini, di giardini, di... Signorini, regali. Esatto. Poi gli altri si accontentavano, no? Si accontentavano magari di avere il piccolo pezzo di terra per l'orto, per il proprio sostentamento o altro. Ma quello che teoricamente poteva essere la cultura del giardino sembrava essere ad appannaggio dei facoltosi, no? Di chi poteva permetterselo. Poi sicuramente aver aperto la possibilità di avere un giardino a tutti può essere stata una cosa positiva, ma da un lato è diventata un po' una sconfitta perché non abbiamo contemporaneamente diffuso la cultura del verde. come l'agricoltura, come anche l'alimentazione, è stata... sono andati in balia del marketing, del consumismo e questo è il risultato. Difatti diciamo che abbiamo involuto la cultura del giardino, cioè l'abbiamo in realtà commercializzata. Eh sì. Abbiamo commercializzato il giardino con anche il brutto. Eh sì, ha centrato proprio il punto. Il problema è che il brutto piace. Piace perché la tendenza... Piace perché è brutto. No, piace perché è brutto. Perché abbiamo la cultura del brutto in realtà. Cioè non abbiamo più la cultura del bello. Abbiamo la cultura del brutto. E in realtà continuiamo da un lato a lasciare, diciamo, il bello. È una questione di cultura, no? Questo è una questione di formazione. E la naturalità l'abbiamo piegata a queste cose qui. Nel momento che fai il prato della villetta col prato sintetico, lì siamo proprio a... Si è toccato il fondo. Ma mica solo il prato della villetta e gli asili? Sì, sì. Gli asili fatti con... Ma anche gli impianti sportivi, cioè... Io ho visto la costruzione di un impianto sportivo, un campo dal calcio, e ci passavo tutti i giorni, una cosa indescrivibile dei materiali, ghiaia, cordoli, cemento. Cioè non è che è una cosa più economica. E poi mi domando, un domani verrà smantellato tutta quella plastica dove andrà a finire. No, ma di fatti... Non si ballano queste cose. Allora, anche lì, abbiamo, ci siamo evoluti tecnicamente per, diciamo, compensare delle problematiche. Nel caso, vedi, nel caso dello sport, no? In questo caso qui, stiamo parlando di ambienti specifici, cioè di condizioni specifiche. Ma guarda, allora, in realtà, se io dovessi ragionare sulla costruzione di fondo, anche per costruire un buon campo tecnico sportivo, devi avere una costruzione, quindi avere dei sottofondi. Una volta usavano le fascinate, adesso per i drenaggi usi comunque la ghiaia o altro. Quindi, nell'aspetto tecnico non ci distanziamo molto in alcuni aspetti costruttivi. Sicuramente nella scelta di un materiale plastico si entra in un contesto molto delicato. Diciamo che non si può ragionare di sostituire un prato naturale con un prato sintetico per comodità, perché in realtà non hai alcun vantaggio né economico né qualitativo né ambientale. In un contesto strettamente tecnico, una cosa o un'altra, mi può compensare dei problemi. Però non può essere, diciamo, la regola. Gli Stati Uniti, con la NFL, la federazione del football americano, più di 15 anni fa convertirono tutti i campi in erba naturale, in erba sintetica, perché sicuramente il logorio, cioè il lavoro di trassemina, mantenimento, ricostruzione del campo, per loro allora dava dei grossi costi. Quindi hanno detto, sostituiamo col sintetico e la manna venuta dal cielo, cambiamo, altre cose. Hanno spostato la spesa dal campo sintetico al rimbosso degli infortuni per i danni e i legamenti al ginocchio, ai campioni o altre cose. Per cui in realtà probabilmente addirittura la spesa era aumentata ad appannaggio dei rimborsi degli infortuni, dei rimborsi milionari dei giocatori di football, sono tornati al prato naturale, perché quei prati naturali spendevano meno i rimborsi oltre a quello che erano in realtà poi comunque le lavorazioni da fare su un prato sintetico, perché comunque ci sono dei lavori anche lì, c'è una spazzolatura, un'irrigazione per abbassare le temperature. Ecco che dopo, tecnicamente, se andiamo poi a vedere nell'aspetto diciamo ecologico di una costruzione tecnica, quali sono i pro e contro. I pro potrebbero essere quello di poter avere un manto di lavoro, perché stiamo parlando di un manto di lavoro generalmente sempre perfetto, sempre idoneo per fare determinate cose, ma il contro, qual è l'aumento delle temperature, comunque la necessità di avere l'acqua per abbassare la temperatura stessa, la necessità di disinfettarli, perché adesso da due anni a questa parte hanno introdotto l'obbligo della disinfezione almeno due volte l'anno dei campi sintetici, perché non c'è la biodiversità microbica che ti consenta di digerire quello che c'è su un campo. Hanno fatto delle analisi microbiologiche e chimiche su dei campi sportivi, hanno trovato dei coli batteri, hanno trovato l'acqua allunque di qualcosa che in realtà è microbiologicamente dannoso per l'uomo. Tanto per dire la terra a terra, se un gatto fa le feci su un prato sintetico, le feci vengono semplicemente liofilizzate lì sopra e si polverizzano sopra uno strato sintetico e rimangono lì, rimangono lì in attesa di un po' d'acqua, di umidità per ritornare a riproliferare a livello batteriologico. In un terreno il tutto viene in realtà reintegrato, digerito da tutta la mia strada di un suolo. Quindi anche lì... E tra l'altro ci nascono pure le infestanti, ho visto. Esatto, e ci nascono pure le infestanti. Basta ci arrivi un po' di sostanza organica, si deposita e ci nascono pure le infestanti. Pure le infestanti, quindi alla fine dovresti anche diserbarli. Almeno il taglio se lo risparmiano c'è anche da rasare. No, si risparmiano il taglio, però devono spazzolarlo. E in realtà non sono guadagni, anche perché dopo hai dei costi per smaltirlo. Nel senso che dopo molti... Adesso alcuni sono metti smaltibili normalmente, altri invece devono essere termovalorizzati. Quindi sono rifiuti speciali. Manca molto questo aspetto del valutare tutti gli aspetti economici ed ecologici di scelte che si fanno. Ma questo anche nel giardino. La stessa scelta di un prato, diciamo, coltivato, di un prato spontaneo potrebbe essere fatta solo in base alla disponibilità dell'acqua. Quanto in realtà mi può consumare un tappeto erboso, diciamo, intensivo, chiamiamolo intensivo, e quanto in realtà di acqua mi potrebbe richiedere un tappeto erboso naturale. Certo che avrò due qualità diverse, probabilmente. Però molte volte basterebbe far capire al cliente, ma non far capire perché devo demonizzarne uno, però sarebbe corretto fare capire, ma questo anche per la scelta di altre piante, quali sono, per esempio, i consumi idrici. A quanto possa essere eticamente sostenibile utilizzare acqua potabile per bagnare il giardino, irrigare un prato o altro senza avere magari le fonti di recupero con delle vasche, con delle cisterne, dell'acqua piovane, l'utilizzo dei migliori sistemi di irrigazione e la scelta delle piante che magari sono meno idrovore. A noi mancano molti questi passaggi tecnici. Diciamo queste valutazioni tecniche. Diciamo che torniamo prima, si compra per il proprio gusto, ma i fiori non sono fatti per noi, le piante non sono fatte per noi, generalmente hanno bisogno delle loro necessità, ma noi ci dimentichiamo molte volte queste cose qui. Dimentichiamo sempre che il giardino è una cosa viva, con le proprie peculiarità e le proprie necessità fisiologiche. Quindi molte piante da sole vanno all'ombra, molte piante da ombra vanno al sole, molte piante da asciutto vanno irrigate, irrigate e piante che sono da bagnato non vengono irrigate mai. O si mescola tutto in base agli accostamenti. O si mescola tutto e chi sopravvive vive. Perché magari vedi gli accostamenti, questo tono sta meglio con quest'altro, stile pennellate su... Quello è un po'... Poi per carità non è facile progettare, cioè non è facile progettare. Eh no. Tutti commettiamo degli errori... Assolutamente. Certo che in molti casi vedere una lavanda di fianco a un'idrangea è un po' un po' in un occhio. Una delle due è fuori luogo. Sì, cozzano un po'. Diciamo che lì è forzata un po' alla naturalità. Diciamo che lì in sé la naturalità fa il suo corso quando una delle due crepa. Bisognerebbe però a quel punto prendere atto dell'errore perché gli errori si possono anche commettere purché se ne faccia tesoro e andare a capire l'errore che si è commesso e da quello apprendere, imparare e non andare poi a volerlo demonizzare oppure cercare in tutti i modi di averla vinta. Si vuole anche un po' più di umiltà e capire se è fatto uno sbaglio e non ripeterlo. L'unica fortuna che abbiamo è che, a quanto so un po', insomma anche informandomi, è che i paesi un po' del nord Europa, Francia, Inghilterra, stanno già andando molto in questa direzione. Non si arriva sempre a traino. è che noi ancora siamo molto succubi come dicevi te prima, del marketing. Noi si fa un giardinaggio americano più che all'inglese o all'italiana. Siamo molto condizionati dalle pubblicità, da quello che vediamo nelle riviste oppure anche sul web. Manca aver compreso il vero scopo del giardino, che è quello di creare benessere. Noi pensiamo che il benessere sia dato solo dall'aspetto estetico. Cioè noi diciamo che sotto alcuni aspetti viviamo ancora di quei riflessi lì. Diciamo di quel condizionamento psicologico. Dobbiamo rimpossessarci proprio di quelle caratteristiche dell'intrinseche di un giardino. A me capita di vedere le nuove urbanizzazioni delle panchine lontane dagli alberi. Le panchine sono sotto i lampioni, non sono sotto gli alberi. Pensi che sia più importante che questa cultura, questo cambio di mentalità venga da parte dei proprietari di giardini o dei giardinieri, vivaisti, insomma della parte dei professionisti? Che è il giardiniere che diffonde la cultura del verde. Cioè nel momento in cui io vado da un cliente e mi rifiuto di assecondare i capricci del cliente, sto facendo cultura del verde. Ma non è che mi rifiuto di assecondare i suoi capricci a livello del dire no, non mi piacciono le sue scelte perché non mi piacciono a me. Ma perché gli dico che in realtà non stanno né in cielo né in terra. Cioè non corrisponde a una naturalità. Non corrisponde. E lo vedi fattibile che il mondo dei giardiniere arrivi a fare uno switch tale? Ma allora è sempre il solito discorso. Quanto un giardiniero ha intenzione di prostituirsi per portarsi da casa una pagnotta dignitosa o meno. Siamo sempre lì. È vero che all'inizio... Quanta voglia di formarsi e di studiare anche lì. Insomma per arrivare a avere una competenza tale e c'è un bel lavoro dietro. Purtroppo la prima cultura è quella del mi devo portare a casa la pagnotta a tutti i costi. Per cui la paura fondamentalmente è quella. Può essere un discorso che magari puoi fare nei primi anni di lavoro nel senso che hai la paura di non trovare lavoro per cui cerchi di prendere e assecondare un po' tutto. In realtà se dopo nel frattempo ti evolvi come giardiniera a livello culturale fai informazioni e capisci quanto è importante in realtà fare cultura anche perché quando dicevamo tra fare o essere giardiniere io ho fatto la scelta di essere giardiniere perché il mio lavoro è anche un lavoro di consulenza. Io non sono chiamato per fare solo un lavoro manuale. Io non sono un manuale del giardinaggio. Un manuale inteso un manovale del giardinaggio. Io devo essere più un manuale del giardinaggio. Un manuale inteso come da consultare un portatore bravo un portatore di informazioni cioè tu devi affidarti a un giardiniere perché ti può consigliare al meglio cioè può consigliare secondo delle condizioni le scelte migliori. Pensa a ditte che hanno c'è un titolare che procaccia lavori e dieci dipendenti che tirano a lavorare. cioè pensi sia fattibile anche a quel livello? Ma allora questo è un passaggio culturale da un lato deviare la propria qualità di ingresso del reddito del guadagno. Io posso tranquillamente lavorare non capitozzando ma posso lavorare facendo le scelte delle piante giuste facendo gli interventi corretti perché poi le piante in ambiente fimero hanno bisogno di essere gestite. Non devo per forza basare tutto il mio reddito sulle capitozzature perché comunque sto facendo un danno quando poi la gente si renderà conto che si rende conto che ha speso per farsi fare un danno cioè per farsi deperire il suo il suo bene perché uno l'albero l'ha comprato uno l'altro l'ha condito l'ha gestito molte volte si affidano a volte lo richiedono quello però quando tu gli fai capire che ha un danno generalmente stai lavorando per te stesso anche perché stai facendo cultura del verde e aumentare elevare la qualità del verde la cultura del verde vuol dire anche elevare le qualità del nostro lavoro elevare le nostre competenze vuol dire poi poter chiedere quello che effettivamente ci spetta la maggior parte dei giardinieri noi lavoriamo sottopagati perché veniamo visti come un lavoro che teoricamente possono fare tutti io però Andrea la vedo la vedo in maniera un po' differente cioè nel senso anche con quello che sto facendo come divulgazione io non mi rivolgo direttamente ai giardinieri sperando che che prendano nozioni poi chiaramente se c'è un giardiniere che che ne trarrà beneficio ben venga però io ho come visione il fatto di consapevolizzare i proprietari di giardini ah ma sicuramente sicuramente è un parallelo è un binario parallelo però secondo me il primo passo è quello perché se il cliente prende consapevolezza di come potrebbe essere un giardino delle problematiche che ci sono e il fatto che se fa delle scelte giuste poi si ritrova negli anni in qualcosa che quasi si autogestisce ma e nell'altro caso invece si trova problemi su problemi e molti l'hanno già provato sulla propria pelle e capiscono che dietro ai loro problemi ci sono incompetenze mancanza di conoscenza false credenze cattive abitudini allora si incomincia a alzare le antenne ti amplio la tua visione un treno corre su un binario che ha due rotaie certo è indiscutibile una non esclude l'altra cioè nel senso i primi allora diciamo che i primi fautori di diffusione di cultura devono essere i giardinieri nel senso che siamo noi che portiamo la cultura del verde perché noi dobbiamo difendere le nostre competenze sicuramente avere noi lo stiamo facendo lo stiamo già facendo avere una committenza informata e cosciente ci costringe a elevare le nostre mancanze cioè certo più che altro costringe gli altri costringe gli altri ad adeguarsi credo che il nostro fare formazione in realtà è anche mettere i bastoni in mezzo alle ruote agli incompetenti nel senso che vuol dire qui ti voglio portare che eleviamo eleviamo la qualità di richiesta dei lavori e quindi se tu non sei in grado di farlo ma è quello che dicevo oggi con la ragazza che collabora con me gli incompetenti per gente come me mi permetto di mettermi in una categoria di giardinieri che sanno un po' lavorare sotto alcuni aspetti per me sono una risorsa sotto alcuni aspetti cioè non mi danneggiano più a livello di tariffa oraria nel senso che la gente si sta cominciando poi a rendere conto che si è fatta fare degli errori si è fatta fare dei danni o altro per cui dopo vengono a cercare gente come me sotto alcuni aspetti non vorrei sembrare poco no no me lo immagino benissimo poco umile o una cosa o un'altra però nel mio piccolo io vedo un sacco di gente che mi chiamo perché non è contenta poi per carità nel mio nei miei vent'anni di lavoro io quest'anno ho fatto vent'anni di attività in proprio ho anche tra virgolette scontentato dei clienti quello sicuramente ma perché magari non li ho seguiti come avrebbero voluto altre cose ma a volte li ho scontentati perché non ho fatto quello che volevano ma se quello che volevano era andare diciamo contro quelle che sono le mie competenze tecniche di quello che è il mio servizio che posso dare possono tranquillamente affidarsi a qualcuno che li fa spendere meno e fare quello che vogliono loro senza cultura cioè se loro prendono quello che viene esatto possono prendere quello che vogliono c'è la possibilità di scegliere il giardiniere che più ti aggrada quindi puoi ricredere il giardiniere alla tua stessa caratura culturale no? e lì si torna al discorso dicevi prima te del valore che dai al giardino è chiaro se uno al giardino non dà valore è solo una spesa prende un giardiniere che ha lo stesso valore a cui dà il suo giardino quindi sarà un giardiniere che pagherà poco tecnicamente un giardiniere che faccia quello che farebbe lui però non ha tempo non ha voglia quindi una manovalanza tira l'altra è ovvio quindi sicuramente bisogna lavorare su tutti i fronti uno non esclude l'altro sì sì assolutamente era solo per puntualizzare da dove partiresti io partirei sono due punti bisogna partire da entrambi la forbice però io vedo il potere decisionale di chi commissiona il lavoro e che lo paga chi è che finanzia parti da tutte e due perché in realtà nel momento in cui il giardiniere trova il committente incompetente è in grado di formarlo e nel momento in cui invece il committente trova il giardiniere incompetente è in grado di costringerlo a formarsi quindi devi poter dare diciamo tappare tutti i buchi sì ma quanto ci vuole fare una formazione minima non è che la fai dall'oggi al domani è un bel processo di studio di apprendimento di messa in pratica quindi che ci siano dall'oggi al domani tanti giardinieri che sono talmente competenti da rifiutare i lavori vedi il gap dove è che nel momento in cui noi potremmo anche avere tutti i committenti che bene o male si intendono di giardino e hanno delle esigenze diciamo che ecco hanno delle esigenze di qualità nell'avere chi opera nei loro giardini per contro che cosa abbiamo adesso per formare i giardinieri non abbiamo niente anche lì aspettare che si elevi il mercato per poter far capire che ci vuole una formazione più approfondita per i giardinieri anche lì vuol dire aspettare molto quindi bisogna anche lì probabilmente creare i presupposti da entrambe le parti cioè assolutamente momento in cui noi potremmo essere diciamo una società in grado di creare cultura del verde all'interno di chi entra sul mercato il mercato aveva necessità di elevare la qualità di accesso al mercato non in realtà magari di limitarla o di chiudere il diciamo l'accesso ma ha la necessità di elevare la qualità dell'accesso al mercato del professionista del verde in molti casi adesso è questa elevazione della qualità è delegata al professionista del verde stesso cioè è lo stesso giardiniere che sceglie se formarsi o no o se limitarsi a raccontare che essere da 20 anni sul mercato senza aver fatto nessuna formazione mi dà un biglietto da visita sufficiente per dire io so fare il giardiniere tutta la formazione che io ho fatto generalmente l'ho fatta in maniera spontanea eh sì è che lì c'è una componente di passione poi è un processo lungo e ti faccio un paragone un ragazzo che esce dall'architettura del paesaggio è a livello o gli manca ancora roba? ma gli manca tutta la pratica cioè capisci è cioè quello che tanti non capiscono è che il giardinaggio e si può vedere da dietro alle mie spalle come presumo da dietro alle tua è complessa come in materia è talmente vasta che abbraccia la vita intera a tutti i livelli e poi messa in pratica andare a vedere tutti i cicli le stagioni solo le piante sono migliaia di migliaia è indubbio che sia una cosa di una complessità astrusa ci stiamo lavorando noi non ci basterà una vita per diventare buoni giardinieri eh ma non si diventerà mai ma di fatti ma noi non diventeremo mai buoni giardini è come la costruzione di un giardino non finisce mai la costruzione di un giardino è così quella di un giardiniere è quello il bello che molti non capiscono e che pensano basta comprare quattro attrezzi le piante si si piantano in un certo modo e ciao finita invece c'è c'è molto molto beh guarda io mi consolo con il fatto che alla fine diciamo che non mi voglio demoralizzare dico mi pagano per in realtà godermi la vita sotto alcuni aspetti nel senso che diciamo che mi pagano per godere degli effetti terapeutici dei giardini altrui è vero che mi costa fatica però alla fine ho una forma di appagamento completamente diverso rispetto magari a fare un lavoro chiuso dentro e alla fine ti pagano per quello quindi fatto con conoscenza e consapevolezza si può dire che siamo dei più bei lavori si possa fare con l'umiltà è quella cosa che mi ero legato prima il fatto di essere umili di sapere osservare quello che succede nel giardino e godere di ogni cosa che il giardino un po' ti offre ogni spunto ogni momento ogni attimo fuggente che c'è all'interno del giardino sono quelli i motori che ti ricaricano la cosa triste è che effettivamente vabbè io la so perché la vivo tutti i giorni ma molte volte i clienti non lo sanno cioè non sanno che cosa si perdono eh sì bravo bravo anche io ho avuto questa sensazione quindi alla fine dico cacchio mi pagano per raccogliere quello che loro si perdono dal giardino nel senso che va bene va bene cioè finché finché riesco diciamo riesco a mantenermi giovane mentalmente così va benissimo nel senso che però dispiace dispiace sì beh dispiace nel senso che è quello che dici loro non capiscono quello che si perdono eh sì che non capiscano quello che si perdono sì infatti io cerco un po' di spronare anche le persone a provare a sperimentare a metterci le mani anche se poi fanno degli errori qualche pianta si secca e chi se ne frega cioè il giardino va vissuto addirittura io è un bel po' che propongo anche una forma diversa di progettazione invece di impormi come garden designer come fanno più quelli più virtuosi di interpretare un po' i gusti le necessità del cliente e presentargli un progetto a me piace fare un discorso di progettazione condivisa con la partecipazione addirittura il mio ideale sarebbe quello di far arrivare il cliente stesso a disegnare il proprio giardino poi chiaramente può essere uno scarabocchio in un foglio ma è molto meglio se un cliente riesce a immaginarsi il suo giardino già finito e magari ha tirato giù lui stesso un po' istruito con qualche consiglio un'idea un abbozzo del proprio giardino che non arrivare col render super figo con tutte le fioriture che poi magari mai sarà il giardino realizzato identico al render anche perché poi il giardino evolverà neanche stagione dopo stagione anno dopo anno ma giorno dopo giorno quindi il render è la più grande presa per il culo da fare a un cliente perché poi è lo specchietto dell'allodore classico alla fine il giardino non rimarrà mai tale quale a quella proposta che gli viene fatta sai faccio sempre l'avvocato del diavolo sotto alcuni aspetti è sempre l'utilizzo del eh certo diciamo della della tecnologia no oppure di come vendo un prodotto a me sicuramente mi fanno più imbestialire i rendering dove buttano dentro tutte le fioriture in una sola foto e dico cacchio ma scusatemi tecnicamente vi state castrando da soli perché troverete il cliente pignolo che dice ma io queste fioriture non ce le ho tutte in questo momento perché ma perché l'errore è stato diciamo il mio no ho voluto vendere un qualcosa che in realtà non lo era e per cui mi sono messo io da solo mi sono tirato la zappa sui piedi cioè l'effetto non può essere che pacchiano a quel ma certo ma allora io ti dico ho dei programmi di rendering mi è sempre piaciuto per esempio fare ho disegnato in questi vent'anni ho fatto dei progetti colorati ad acquarello ho fatto degli schizzi ho fatto l'acqua lunghe per mettere un po' in condizione il cliente di dargli quel minimo di visione che io ho nel senso che io la visione del giardino ce l'ho cioè immagino di come potrebbe venire perché tanto so che la natura fa quel cacchio che gli pare quindi io standardizzo le mie conoscenze per dire io una visione del giardino ce l'ho poi in realtà tutte le volte rimango sempre sbalordito perché è un po' come leggere i libri e guardare il film no? Io mi sono fatto il mio film mentale bravo bravo mi sono fatto il mio film mentale e poi in realtà magari non mi piace l'attore perché nella mia testa lo vedevo in un altro modo con no? Però diciamo che contestualmente in realtà il film ha riprodotto il libro no? Quindi ci sono dei dettagli che io mi ero dato conformato ma che la natura come al solito mette il suo zampino per modificarli però quello che era l'utilizzo per esempio il mio della progettazione del rendering è ma è sempre quel discorso di etica o consapevolezza no? Non è mai stato un marketizzare il mio lavoro ma cercare di rendere partecipe il competente quindi renderlo di dargli quella visione che molte volte molti non hanno molti non hanno la visione di cosa succederà in giardino cioè non hanno la visione a 5, 10, 15, 20 anni perché? Perché in realtà non hanno mai visto crescere le piante cioè la nostra fortuna di esperienza è quando tu progetti un giardino e lo puoi seguire anche nel senso che vedi come si sono evolute vedi come sono cresciute vedi che cosa è successo quella è la più grande scuola che un giardiniere può apprendere nella pratica quindi non costruire un giardino e poi non vederlo più o vederlo solo dopo dopo 10 anni poterlo vedere dai primi sviluppi all'evoluzione ti dico è proprio la scuola primaria che andrebbe fatta l'osservazione sì e il fatto di utilizzare i supporti può aiutare a creare a diciamo ridurre il gap che abbiamo noi perché quando tu parli con alcuni ti rendi proprio del gap che hanno nel senso che diciamo tu lo vedi già molti si rendono conto che noi che noi nel caso che abbiamo la capacità di vedere ma è il nostro lavoro perché noi in realtà viviamo viviamo di quello ci siamo cresciuti negli anni cioè io a 20 anni di lavoro ho visto crescere per 20 anni dei giardini quindi la cognizione ce l'ho ho la concezione che le piante crescono altrimenti torniamo quel principio quel principio del concetto classico greco che diceva che in realtà le piante erano oggetti perché noi non le vediamo crescere e poi c'è da dire un'altra cosa che proprio quel discorso del tempo che le piante crescono è che molti realizzano il progetto pensando a come dovrà essere realizzato il giardino quindi come dovrà essere allestito e invece l'ideale potrebbe essere avere la proiezione a distanza non so 10 15 20 anni e quindi progettare il giardino con l'idea posticipata e quindi andare a mettere le piante soprattutto quelle di prima grandezza grandi alberi arbusti a già delle distanze che permettano loro di crescere e quindi avere i loro spazi poi ci sono vieta di riempire con piante pioniere piante a crescita veloce a piante a vita breve e di fare anche un pronto effetto però io vedo fare i pronto effetti con arbusti e alberi che poi per mantenerli in forma per tenerli a bada c'è da lavorare non so se è fatta a sommo studio per crearsi lavoro ma non mi sembra una grande ma lì rientriamo sempre nel quel concetto del molte volte essere schiavi della necessità di portare a casa un guadagno perché hai dei obblighi di costi per cui alla fine dopo venderesti anche tua donna o il ghiaccio agli schimesi lì poi entrano in gioco tantissimi fattori il fattore etico il fattore professionale o altro quindi sai lì non rientri più nella diciamo nella professione in sé ma rientri in tutti quei gli anfratti della sociologia bypassi la passione con una necessità il furbo la cultura di rispetto degli altri o altro quindi sai qui dopo sconfini in in tutto quello che in realtà in molti casi fa male alla professione a qualsiasi professione sai questo è il modo di vivere che un po' abbiamo che ci hanno magari imposto inculcato o altro quindi lì sta a noi qui è una questione di morale diciamo che dopo entri in tutto quel contesto della morale della morale umana che se però alla fine capisci i segreti del giardino e vivi il giardino e hai l'umiltà di capirlo ti rendi conto di cosa sono magari importanti le cose o perlomeno io la vedo così chi in realtà è lontano da queste cose qui è molto più vicino all'antropizzazione mentale per cui è schiavo di altre cose quando tu ti liberi un po' da queste schiavi tu capisci il rispetto per la natura capisci il concetto della vita o altre cose e quindi riprendi anche il gusto di fare i giardini capisci che è molto più semplice di quanto gli altri non ti facciano sembrare l'importanza del giardino cioè l'importanza della natura all'interno della vita di un essere umano no? L'altra parte noi facciamo parte di un ciclo naturale e noi ce lo siamo privati con diciamo con l'uomo egoista l'uomo individualista diciamo che fa tutto per sé in realtà dimenticandosi in realtà il posto il posto in cui vive no? Quindi ecco il giardino ha sempre avuto un po' quello scopo quello di riportarti indietro indietro alla natura il legame al paradiso perduto al paradiso perduto concettualmente sì il concetto del paradiso perduto però pratica all'era pre-agricola noi dico noi abbiamo perso proprio ecco quello che ci manca secondo me è la prima cosa che dovrebbe fare un giardiniere studiare le storie del giardino eh sì la storia in realtà la storia la storia del giardino l'evoluzione del giardino la mentalità è collegata a quella dell'uomo è collegata a quella dell'uomo ma di pari passi sì sì eh sì eh sì bene abbiamo fatto il record di durata stasera anche stasera toccherà fare altre due puntate spezzarli in due puntate vabbè dai ma è piacevole è difficile trovare dei colleghi adesso poi magari dovremmo entrare in temi proprio più specifici perché sì sì se no si divaga e eh ma però vedi anche lì il tema più specifico rientra quasi nella nel blog no cioè prima di arrivare al blog secondo me bisogna stuzzicare la la passione per il verde cioè la passione per il verde non è andare a comprare le piante che arrivano fuori al garden tutte belle fiorite una cosa o un'altra ma in realtà è andare bravo e andare a ricercare diciamo quelle che rispettano più il ciclo naturale no io non vado a ricercare l'ortense adesso fiorita adesso una cosa o un'altra l'ortense fiorita adesso non ci sono ehm è più bello emozionarsi per un centrantus che è nato spontaneo tra da un muro o anche esatto o anche pensare a volte di raccogliere io per esempio io non ho io non ho il giardino quindi mi accontento di andare a mettere le mani nei giardini altrui no però continuo a ritrovarmi non so perché a provare a fare di tale raccogliere dei semi o altro ma non ho giardino ho appena provato a mettere giù ho potato delle delle Annabelle delle idrangee delle Annabelle quelle tra l'altro tengono abbastanza bene credo di averne fatte 15-16 che dico dove cacchio le metto nel senso che adesso mi dovrò preoccupare di dove le metto il vero giardiniere non so se te conosci i fratelli Roda io ho avuto la fortuna di trovare uno dei loro almanacchi erano i giardinieri del re proprio sì 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 e lì descrive tutto quello che era il lavoro del giardiniere cioè il giardiniere era vivaista di tutto cioè faceva le propagazioni le semine le serre cioè aveva una competenza che noi ce la sogniamo quante piante conoscevano fino a 800 sì sì ma poi noi corriamo dietro stiamo correndo in realtà dietro a quelli che sono diciamo i vincoli produttivi no? noi dobbiamo produrre 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 ma produrre quantità e non qualità sotto alcuni aspetti cioè produrre quantità e non cultura quando in realtà ti dico se tornassimo a capire che produrre cultura vuol dire in realtà forse lavorare meno e aumentare il guadagno assolutamente e sprecheresti meno risorse nel senso che dopo vedi si torna a quel concetto il giardino naturale non è una condizione di mercato ma è una condizione di cultura cioè non ci devi arrivare per un'imposizione di mercato perché se no sbagli gli approcci ci devi arrivare come evoluzione culturale cioè ti sei evoluto culturalmente e sai torno a dirti senza demonizzare tutto quello che non è sotto alcuni aspetti non è naturale cioè più artificioso io non demonizzo te l'ho detto non demonizzo la selezione del tappeto erboso non demonizzo molte cose che non rispecchiano diciamo quello che è l'ordine del giardino naturale ma so che cosa sono so come devono essere usate so quando utilizzarle non vuol dire che io non utilizzo sementi e prati anche perché se io voglio fare un prato naturale adesso poi chiudiamo nel senso che noi stiamo andando avanti però se io voglio fare un prato naturale qual è il miglior prato naturale generalmente è una commistione tra graminacee e foglie larghe diciamo monocotiledoni di cotiledoni un rapporto a 60-40 indicativamente cioè i prati spontanei quando io vado generalmente a vedere i prati spontanei ho una matrice graminacea di poace e poi ho un'integrazione di cotiledoni quindi di foglie larghe fioriti o altre cose quindi quando io devo costruire un giardino non aspetto che venga da solo gli do una matrice sotto e vedi anche lì aiutiamo la natura andiamo nella sua direzione non contro e soprattutto limitiamo gli input al minimo necessario o anche o anche zero alla fine facciamo lavorare i cicli quello che avviene in modo spontaneo senza voler per forza domesticare controllare imporsi ogni volta che forziamo la mano e ci diamo la zappa su piedi alla fine ormai quello quello si quindi non è che si fa un giardino aspettando che nasca da seme portati dagli uccelli non è questo la no volendo c'è anche quello ma stiamo metti in molti casi estremizzando nel senso che faccio l'ultima domanda se in un giardino vedi una una pianta nata da seme spontanea la consideri come un'intrusa come fanno molti vedo l'ora di sbarbarla o se puoi la preservi no è sempre il solito discorso dicevo l'altra volta la estera erbaccia è una questione mentale non è una questione in realtà è una questione mentale è una questione di luogo non è condizione specie specifica cioè delle specie nascono infestanti e delle specie nascono da giardino non è così in realtà è opportunità e luogo ho fatto un posto l'altro giorno guardavo le crepe fuori dal ero in pausa pranzo fuori dal dall'ufficio dal dal capannone e in alcune crepe mi sono nate una stipa e una stachis bizantina concettualmente sono due infestanti in quel contesto in quel luogo sono due infestanti in realtà poi alla fine che cosa ho fatto le ho prese su ho provato a trapiantarle ma in realtà le usi le trapianti perché in realtà si chiamano stipa e stachis ma in realtà oggi ero in un giardino dove ho trovato del del geranium purpureum spontaneo che era fiorito altre cose l'ho lasciato perché dovevo dovevo toglierlo ci sono alcuni contesti opportunità che mi consentono di lasciare quello che lasciare quello che viene in altri in alcuni casi ce ne sono alcune che magari dicono beh effettivamente te non è il caso che stia qui però in altri casi potrei anche solo spostarle potrei anche solo fare una scelta e dire beh ti sposto e lì viene fuori il vero giardiniere è una scelta ponderata una scelta anche del momento non a prescindere che uno entra in giardino e fa man bassa si fa da una parte squadra stonda tutto è sempre una questione di biodiversità anche lì cioè l'opportunità e il luogo che fanno la differenza bene con questa chiuderei che dice Andrea sì dai dai la prossima volta ci daremo ci daremo una scaletta e un tema e un tema magari più più da blog dai magari la prossima volta faremo un tema più da blog dai bene ti saluto ciao 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 Andrea ciao hai sentito quanti spunti che riguardano il giardinaggio sostenibile prendere riferimento dalla natura e lavorare imitandola ti permette di ottimizzare tempi e risorse quando invece provi a importi e controllare i suoi cicli il tuo giardino può diventare vulnerabile e renderti schiavo saper valutare il valore di un giardino ti permette di dedicarti agli aspetti più gratificanti lasciando perdere tutto ciò che risulta fastidioso e incombente come ha detto Andrea per un giardiniere c'è una bella differenza tra l'essere e il fare ti conviene fare da controllore invece che da disturbatore e per fare questo ti basta intervenire nel modo giusto e al momento giusto se vuoi interagire con me ti ricordo che puoi farlo attraverso il gruppo facebook il canale telegram di Giardino Futuro o puoi scrivermi alla mail robertomasai chiocciolagiardinofuturo punto et ti do appuntamento alla prossima ciao 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 ciao